3, 2, 1 AAAAAH Buongiorno Team Trotec! Benvenuti nella mia vita! Anche oggi un nuovo video per raccontarvi una nuova avventura Perché ogni giorno insieme a noi Buongiorno piscina Buongiorno trampolino Buongiorno Ray Uuuuh! Che abbia inizio una nuova giornata! E qual è il modo migliore di iniziare una giornata Se non con una capriola sul trampolino? Già perché non vi ho detto che in questi giorni Mi sono allenato per imparare a fare il front flip Ovvero la capriola in avanti Non è per niente semplice Ma ci proveremo insieme Uuuuh! Se ci riesco al primo tentativo Oggi facciamo una challenge con Sofì Se non ci riesco facciamo un esperimento pazzo Pronti? Per pochissimo! Ci stavo per riuscire! Nooo E' davvero super difficile Atterrare di nuovo in piedi Non è semplice Ma con l'allenamento e la costanza sono sicuro che ci riusciremo Entro fine dell'estate voglio saper fare una capriola Super Overmaster 9000 Ma niente capriola significa che oggi andremo a fare un esperimento pazzo Ma per farlo abbiamo bisogno prima di tutto della nostra assistente piccolina Sofì Quindi scopriamo che sta combinando di bello la nostra Sofì Sofì! Luì sono accanto a te Eh? Caccia! Buongiorno! Ciao! Sono molto perplessa Quando sei arrivata? Lui mi sei venuto a prendere No, 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 sto scherzando Pazzo! Aiuto! Che sei carina oggi! Sembra un uovo di Pasqua Luì! Ma sei sempre offensivo! No! Caccia sei bellissima! Sono carinissima! Sì? Socchettino No, vabbè ma che bella! Lui è la maglia delle trote! Se la volete prendere anche voi dovete socorrere su bego3.it slash Oppure link in descrizione Nel nostro shop trovate questa maglia classica La nuova maglia strisce E tantissimi altri prodotti Come la sacca delle trote o il pop socket Ma comunque questa mattina Cara Sofì Ho fatto una scommessa con Team Trote Se riuscivo a fare il front flip sul trampolino Front flip cos'ha? La capriola in avanti Ah, capriola in avanti Ok Avremmo fatto una challenge Altrimenti Se non ci fossi riuscito Avremmo fatto un esperimento pazzo Qualcosa mi dice che faremo un esperimento Già Non è per niente semplice Non imparerò mai a fare la capriola Lui ma non vuoi capire che non sei un atleta Chi sa fare queste cose? E' gente che si allena Che fa ginnastica da tantissimo tempo Tu Come dire Ma sei in grado Ma sei in grado Ma sei in grado Ti odio Ne sono in gradissimo Ma che stai dicendo? Sì sì certo Infatti oggi faremo un esperimento Se non sono bravissimo E' un atleta Sai fare la nuova challenge Che però Stanno andando di moda In tutto il web Ovvero questo No non è questo Guarda bene Uno Due Uno Sì Due No 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 Le dita devono rimanere sopra Come si fa? Non è difficile Prima è così Dopodiché giri la mano E scendi questo così Oh E magia Così? Sì Puoi scendere così? Come fai? Aspetta allora Così? Sì Poi come sta fai con la mano? Non lo so spiegare Sono stato lì un'ora Guardare su Instagram La gente che lo faceva Così? Poi così Stai impazzendo Come fai? Che problemi hai alla mano? Lui ma come è possibile? Ok Imparerai un giorno Ma non è questo il giorno Voglio imparare oggi Voglio imparare oggi Te l'ho detto Te l'ho spiegato Così Dopodiché Guarda Da così Con le dita sopra Poi devi fare così Con le dita sotto Ok Sì vabbè E pazzo È un uovo di Pasqua Eccoci Qui a casa di Lui Oh sì Yeah yeah Nini Abbiamo già pensato L'esperimento super pazzo Da fare oggi Sì perché Se ci pensate Tutti i nostri video Sono super pazzi Qualunque cosa diciamo Ragazzi Oggi faremo un video Super pazzo Ma non lo diciamo Tanto per Lo diciamo perché è così Facciamo tutto fuori di testa Come potete vedere Ci troviamo in piscina Perché oggi Abbiamo intenzione Di fare un esperimento Con la piscina Se ricordate bene L'anno scorso Abbiamo provato A fare un ponte Che servisse Ad attraversare la piscina Da lato a lato Esperimento che ovviamente È non fallito Di più Proprio è stato devastante Bella clip Vai Lui Lui è caduto più volte Perché davvero Era impossibile Chiaramente Una volta che si arrivava Al centro E il ponte Che deve Sì Così quest'anno Abbiamo intenzione Di fare Un altro ponte Ma questa volta Pensiamo Potrebbe riuscire ovvero un ponte di scotch wow che colonna di scotch salvi ti faccio solletico? proveremo ad unire un'estremità della piscina all'altra usando solamente lo scotch pensate sia una cosa fattibile o falliremo anche questa volta secondo me si può fare anche perché abbiamo comprato davvero tantissimo scotch quindi faremo uno strato, due strati, tre strati attorno ce la possiamo fare io credo in noi, io credo al team Drone avete sentito questa parola team Drone, sicuramente molti di voi l'avranno sentita più volte, si si perché è il team più forte e grande di youtube, team Drone sono tutte le persone che ci seguono e che guardano ogni giorno i nostri video, quindi tu se non fai ancora parte di questo team meraviglioso devi assolutamente rimediare cliccando il tasto iscriviti qui sotto e facendolo esplodere bene ci siamo, iniziamo col primo strato, il ponte andrà da qui a lì lui devi entrare in piscina perché? perché dobbiamo continuare con lo scotch devi andare dall'altro lato vado lancia ok abbiamo un piccolo problema devi entrare ma io non entro mica tu puoi entrare ti è rosolato tutto allora prendi la tua barchettina e ti metti in acqua e mi aiuti ok vado vado in soccorso dello scotch vai sono bagnata tutta l'acqua è gelida non c'è neanche il sole ok io slego lo scotch tu con la tua barchetta lo porti dall'altro lato vai dammi vai dai vai dall'altro lato che stai facendo qua come faccio ad andare stai facendo dai 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 ma così ci staremo un'eternità lascialo arriva aspetta 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 ok wow abbiamo attaccato la prima striscia e sofia è già caduta in acqua t'aiuto è prestissima sfreghiamoci vai col timelapse primo strato finito adesso dovremo farne tipo altri 10 al momento sarebbe impossibile camminare sopra perché non appena metterò un piede si roperà tutto ma forse se incrementassimo gli strati si potrebbe fare quindi scoppiamoli insieme è più faticoso del previsto abbiamo fatto altri strati del nostro ponte e la mia soffigia è spinita non immaginate la fatica stare con le braccia così a questo punto per rendere più solido il nostro ponte abbiamo pensato di mettere tutto lo scotch in questo senso così quindi buona fortuna a noi continuiamo e voilà il nostro ponte è sicuramente terminato c'è voluto davvero tantissimo lavoro è una struttura complicatissima perché c'è il scotch messo così lo scotch messo così e guardate lì secondo voi reggerà? cioè ci permetterà di passare da questa sponda a quella sponda senza crollare giù? bloccate il video in questo istante e scrivete nei commenti secondo voi cosa accadrà prima di tutto dobbiamo testare la stabilità quindi assistente prova a far rotolare il rodolo di scotch su questa bomba non sono assistente però la faccio vai 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 ma che hai fatto? ma cos'è? mamma mia mamma mia che mi sono scelto come assistente? che fa adesso? dai è caduto in acqua ok devi farlo rotolare così oh 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 si 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 funziona ok ha superato quindi la prima prova il ponte può funzionare e Sofì il problema è giunto il fatidico momento ovvero scoprire chi dovrà attraversare quel ponte Sofì sei pronta? sì carta forbice a pietra carta forbice a pietra ho vinto quindi lo attraverserà chi ha perso? no Sofì non mi puoi fare questo attraversalo tu sei più leggera sei più piccolina ti reggerà prima tu poi cosa mai attraversa anch'io ma non penso proprio che funzioni ok è giunto ufficialmente il momento stiamo per fare la storia della fisica stiamo per scoprire se un ponte realizzato solo con dello scotch può reggere una persona e ci può permettere di attraversare la piscina spero l'acqua non sia tanto fredda ah e che ho detto? ok è il mio momento 3 2 1 ah oh ah 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 è bruttissima wow avete visto? arretto per un attimo ma proprio un attimo tipo frazione di secondo ma io è il replay è stato incredibile cioè il primo passo io credevo speriamo che non crolla speriamo che non crolla e quindi andavo correndo solo che poi non è crollato veramente e quindi ho detto non sta crollando solo che abbiamo fallito anche questa volta lui dove sbagliamo tutti i nostri esperimenti falliscono terribilmente c'è qualcosa che non va secondo me è la mia assistente poco capace secondo me invece il problema è non avere un vero ingegneros perché non sta no 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 la mia ciambattina di topolino comprata al disneyland mi sa che possiamo smontare tutto cioè il ponte si è tagliato perfettamente in linea col bordo della piscina questo perché? perché tu pesi un quintale dovevo farlo io effettivamente che sono molto leggera come una piuma che l'avevo detto io di provarlo tu perché non l'ho fatto? vabbè tim trode una cosa è poco ma è sicura noi non ci attenderemo e il prossimo anno ci riproveremo così avremo la compilation anno dopo anno dei miei contro te che cascano in acqua creando un ponte instabile ma comunque se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per entrare fa parte dell'incredibile squad team trode cliccate il video che vi so per comparire che sarebbe l'avventura di ieri seguiteci su instagram chiocciola mia contro te chiocciola sofi.scalia e chiocciola luigi.calagna e noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura ciao il prossimo ponte lo facciamo di trucchi hehehehe